Un remake di un importantissimo gioco del 99, ovvero Outkast. Come dire, questo gioco ha segnato un'epoca ed è un action, come poter dire, un gioco action. Principalmente ha come scopo quello di salvare due mondi. Questo Cutter Slade che vedete in copertina è appunto il salvatore dei due rei. Il nostro e il penetro di Delfa in cui noi andremo a spasso oggi. Cosa comporta andare a spasso sua Delfa? Salvare il nostro mondo e il loro mondo. Il mondo di questi alieni particolari che vedono in noi degli antichi dei, o meglio, dei nostri manufatti che gli sono prevenuti per ragioni sconosciute. Noi dovremmo salvarli, salvando in questo modo anche noi. Salvatore gli date cose da un tiranno che a base a... Ah beh, perfetto, siamo intrappolati come delle pigne. Perfetto. Ok, perfetto, siamo tornati in carreggiata. Allora, Delfa è minacciata da un'entità che si fa chiamare Essenza del Fuoco. Nella loro lingua, difficile ricordarsi il loro nome originale, perché qui i nomi sono complessi e c'è una mitologia veramente fatta bene. Ehm, adesso andremo e cercheremo di, appunto, andare avanti nelle liste. Dobbiamo cercare quello che viene chiamato Shamazar. E noi sappiamo che tendenzialmente è nella parte ovest del... Ehm... Ehm... Di questo regno che è lo... Ehm... Che appunto è lo Shamazar. E lo Shamazar, noi dobbiamo cercare lo Shamaz. Però, il fattore è questo. Ehm... Non è come Skyrim o... Giochi più recenti in cui l'indicatore è posto sulla mappa. Qua è proprio esplorativo. In massimi... Come dire... Ai massimi livelli. Di conseguenza dovremmo cercare noi questo Shamaz. Adesso magari... Dato che di là vedo che ci sono dei nemici e simili. E anche qui... Io direi di... Cercare in questa fattoria. Magari qualcuno sa qualcosa. Salvando il mondo... Questo mondo è possibile salvare anche il nostro. Perché... Ehm... I nativi, gli indigeni, ci permetterebbero di... Ci permetteranno di arrivare alla sonda che ha causato... L'unione tra le due dimensioni. Sonda che hanno inviato... Hanno inviato altri due scienziati che dovrebbero essere presenti sul pianeta. Ma che non vediamo. Crediamo di parlare con questo tipo. Come ti fai? Sono molto busy, Ulukai. I must clear this accident. We had tried to repair the temple car. So, what happened? We are very scared to be here. We hear always the gorgor in the waters behind the temple car. And it makes us afraid. The soldiers want us to finish soon and return to our field to work. We almost finished, but the rocks fell and blocked the path. We are trying to clean it before soldiers see it. What is it about a gorgor? It is a huge and deadly beast that lies sleeping in the waters behind the temple car. Any who ever dare wake it by entering the water are said to never leave the water again. It moves ever so often in the water and makes a terrible noise. Sounds spooky. It is Ulukai. I wish someone would just kill it. But I do not think anyone can do. It only comes out once in a great moon to take away Talan in their sleep. I hate being this close to it. Mexican, access. What can I do to help? Do not trouble yourself, Ulukai. You have more important things to do besides help us. But if I had a wish, it would be for a large piece of dynamite to blow that accident to the odds. Notepad, accessed. Okay. Where can I get some dynamite? I hear stories the wrist counters near the waters of the temple fae know. Notepad, accessed. Why don't you get your men out of there? What are you going to do, Ulukai? Trying to get rid of that accident for you. As you wish. Close this area. Ulukai wants to do something. Dovremmo fare qualcosa qui. Però dovremmo parlare. Mamma mia, è vastissimo questo gioco. Però non so dove possano essere tutte le altre. Vicino al tempio fae. Questo è il tempio ca, quindi. Tempio fae. Chissà dove cacchio è. Adesso vediamo un attimino di trovare... Un accesso per il fiume qua dietro. Voglio solo vedere. Ah, eccolo. Eccolo là. Sì, magari non... Vorrei provare. Solo così. Astuzzicarlo. Non gli fa niente. Perfetto. Così, tanto per. Proviamo a fare alto, va bene. Allora... 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 Dove cacchio può essere il villaggio che cerchiamo noi? Allora, mi diceva di stare a sud della mappa e io qui, se consideriamo quello è il nord e questo è il sud, dato che io apparivo dall'altro lato esatto della mia posizione attuale. La cosa più fattibile è che io sia a sud in questo momento, ma se il villaggio è a sud-ovest, deve essere da qualche parte qui, non vedo alternative, forse questo è lo sciamanco. Andiamo un attimo per parlarvi. Io, caretaker of the Well of Essence. What is the Well of Essence? The Well? It is where all Talan come to be converted into a full Talan. Converted? Yes. From the Well comes a vast amount of raw Essence energy. When a Talan who has not yet been converted stands near the Well of Essence, this energy flows through them and activates their true Talan Essence inside. It's not dangerous, is it? No, no, Lukai. All Talan do this when they reach the proper age. It is only then that the child becomes an adult and can join the rest of us to work for the Yod's. No one knows which essence a Talan will become until after the conversion ceremony is complete. Va bene. Or in vegetation. Se ne ho messo qui, quindi, non succede nulla, perfetto. Però, troviamo metti minerali e li prendiamo, tantomeno. Cioè, serviranno per il late game, quindi non è affatto male per il late game. Allora. Anche a parte ci dovrà essere solo un allagio. E' un'interagibilità molto scarsa, purtroppo, con l'ambiente circostante. Che in un open world guasta un po' tutta la situazione. Oddio. Usciamo dall'esperienza di Horizon Zero Dawn, in cui l'interagibilità c'era. Ma era ridotta al limite, ma almeno l'interazione ambientale tra terreno e personaggio era preso in maniera ottima. Allora, proviamo di qua. A parte di questo villaggio sarà... Non so già che... Ci sono degli stronzoni. Hmm... Che casino. Ahia. Vediamo. Vabbè, chiediamo i contadini a questo punto. Mamma mia. Quale degnosità. Allora. Contadino numero uno. Chiedo a te. Ehm... Trova Talan. Sì. Cercavo... Appunto... Il capo dove può essere, ad esempio. Il capo dove posso trovare il leader di questa regione. Ha Ulokai looked west of here yet? Go many steps in that direction. Il capo dove sono andati più freddo. Io direi. Il capo. Il capo dove posso trovare un capo di ricreazione? Io direi. Il capo è sul sud-west in questo punto. Tu devi andare molti step in that direction. Ok. Forse... Abbiamo prenteso la mappa fino a questo momento. Sì, io sono arrivato da là. Ok. 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 Sì, potrebbe esserci un villeggino qua, ma a questo punto controllerei. L'ho sbagliato fin da subito. Oh mamma mia. Ragni schifidi. Oh. Ah no, erano questi. Grazie. Grazie davvero. Mi serviva di però sapere... Se questo qua è il sud, da dove vengo io? Lì c'era... non lo so. Vediamo. Sud ovest è di là. Come appunto dice la mappa stessa. Quindi il villaggio sarà molto probabilmente di là. Interpretato male la mappa prima. Percorso. Va bene. Staremo nel... nella zona... Sud... Ovest. Della zona più campilla. C'è che dico di correre e non fare una copiola. Magari cazzo. Poi purtroppo ci sono parecchie volte dei cali di frame indesiderato. Adesso vediamo un attimino. Per trovare lo Shamazar. Per trovare lo Shamazar. Questo è tutto. Questo è tutto. E da qualche parte ci sarà qua. Non serve. Ma no. Questi sono contenini normali. Non mi servono. Intanto prendo. Il mio pistolino. Mi sa che servirà breve perché ho visto che ci sono delle. Degli ostili. Sì. Degli ostili. Degli ostili. Sono là. C'è un portale là però. Ahia. Sì. Poi il sistema di puntaggio purtroppo non è quello che è. Cioè se c'è la mira automatica ma i comandi rispondono proprio. Qui la telecamera. E quel che è. Sto morendo però. Sto morendo però. Ok. Non è morto. Questo modo molto n***a di sparare. Perfetto. Ehm. Riprovo. Ehm. Vediamo un attimino di. Di trovare una quadra davvero. Allora. Perfetto. Perfetto. Ok. Uno è già morto. Almeno così ce lo siamo levati. Oddio. Non caricare in questo momento. Sì. In mente. Grazie. Poi. Anche il passaggio. Non si veda. Non si veda. Ouch. Ouch. L'ha detto davvero. Ha detto ouch. Ti ha riuscito di fuoco. Oh. Alle volte mira. Alle volte no. Dai. Oh. Vediamo un po' di robaccia. Che ci servirà. Salute. Ok. Azioni. C'era ancora un altro da qualche parte. Ok. Allora. Io non so. A questo punto. Se. Proseguire. O. Nel portale. Continuare a cercare. Lo shonazar. Qui. Da qualche parte. Ma. Probabilmente. Il villaggio. Essendo quello lì. Potremmo trovare qualcosa di interessante. Ma. La domanda. Io questi li posso cavalcare. No. Almeno. Non adesso. Non volevo. Allora. Non so. Non so. Non so. C'è il metallo. Vediamo di cercare qui. C'è un ricreatore. Allora. Qua. Sono. Sostanzialmente. I fabbri. E il riduttivo. Cioè. Mi prenderanno le mie armi. Almeno. Allora. Allora. Aiutami. Alora. Un'altro. Un'altra. Alora. Il riduttivo. Nel'altro. Devece. Cosa? Incezio. Diarco. Citro. Viperno. Ma. Perfetto. Diarco. Questa. Il riduttivo. Diarco. Perfetto. Ovi. All right. si aggiungono sempre queste emozioni secondarie allora da qualche parte qui ci sarà quello che cerchiamo cerchiamo un cassa capanna ad esempio anche quella un medkit mi serve subitissimo allora ok adesso dovrei essere apposta infatti allora qua la c'era il fabbro che non è così tanto in uguale quanto non sopporto il fatto che al posto di curvare quando corre alle caviore allora perfetto non sopporto non sopporto non sopporto non sopporto non sopporto non sopporto posso te spiegare qualcosa? ciao tutti i luci hanno riusciti a te da te dormire sono piaciuto grazie ora sull'altro mon ho aspettato per questo luce ho aspettato per questo luce da che ero un small talan subitano io cosa ho detto great the mon? oh yes yes the mon I am afraid I have a confession to make this is going to be bad isn't it? yes ulukai I do not know where the mon is please forgive me but the shamans before me would revert it before telling the secret of the mon sto riconvertito that's ok it's what I expected with the kind of day I'm having wait a dala named Narn has searched for the man for the past few moons his friend was killed by croax since he believes the stories about the man being a powerful weapon of the odds he is trying to claim it for himself has he made any progress? again I feel you in not knowing ulukai I have not seen him since last moon but I need to find him and call the fire that burns in his essence before he reverts croax sounds like croax is in need of a little reverting no ulukai the essence suffers when talan reverts talan notepad accessed ah hey doc allora quindi ma guariscimi no sono un po' solo iod no eeeh altro vediamo cosa dice ripetimi can you tell me anything about where the mon is? the shamas before me did but I was not told of the secret of the man before croax reverted him for helping the guardians Narn believes he knows and zalinas tells a good story about where he thinks it is huh Narn I have to find Narn so I don't know where to find Narn Narn so you don't know where Narn is? have you spoke with Eiloth yet? he could be the best talan to ask I wish I knew but I have not seen Narn since his last visit his brother Eiloth is in the Risfields to the far north of the village Leclico eccessivo andiamo a cercare all'estremo nord del village he detected he detected i campi sono qui i campi sono qui Ailoth dobbiamo cercare tu sei? un contadino normale vediamo se no un zaino sbagliato o qui ok ok questo primo piano abbastanza inquietante allora dov'è Eiloth ok come qua ok 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 Sarà qui dopo che parto. Allora. Ah, ci sono un bel po' di tizzi. No, non ho scappato con quelli. Tu lo sai dove hai rotto, vero? Avete visto I-Lot? I saw him northwest of here a short time ago. Walk many steps in that direction. Ah. Au! Questo è un bel cappino che è non proprio. Au! Ok. Oddio. Quanti cacchio sono? Sono tantissimi. Vabbè, devo andare proprio lì qua. Non è che posso farlo. Fare altrimenti. Mi stanno finendo anche sui espoli. Sono 125 eh, oddio. Ma quando si frizza e io non riesco a muovermi perché si frizza il gioco, è un punto breve. Soprattutto in queste situazioni abbastanza sono citate. Soprattutto in queste situazioni abbastanza sono citate. Allora, anche io lo sono. Cioè, mi hanno sparato delle bombe. Ah, sistema di prontamento. Via. Non metti subito. E' probabilmente facile che sia stato fatto anche più di un air. In realtà. Perché alle volte mi mira in automatico, alle volte no. Non so. Non so. Allora. Non capisco se mirare io o far mirare in automatico al gioco. Però quando lo fa, lo fa a caso. Ok. 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 Allora, chi? non ha lescio, per favore. Ecco. Bloccazo tra due docce del cazzo. Perfetto, va bene. Vi proviamo qua. Ah, proprio così. Almeno questo è buono Sì, se non muoio di nuovo Ok Allora abbiamo trovato in realtà un po' di roba Allora, a parte la mappa La dinamite ce l'ho per dopo eventualmente Però nello zaino solo questa roba Ah, crea un hologram Forse è l' hologram che mi porterà da lui Eh, controlliamo Non ci costa nulla Oddio, sono senza vita, eh Dopo torniamo subito dallo shumazaru Tra l'altro, sì Trana, c'è qualcosa dell' hologramma Invece questa cosa... La chiave della porta Il serbatoio di ossigeno va bene Mi servirà Ok Andiamo al tipo Se lo sa Molto a nord di qui Quindi a ovest ci siamo già arrivati E va bene Andiamo molto a nord di qui Allora Quindi È proprio Molto a nord Sì, sarà da lì Di là Va bene Quindi non è dove diceva lo shumazaru Va bene Andiamo a cercare un attimino di curarci Ah Non c'è mai stato il danno da caduta Giuro Va bene Ok Sono caduto dal tempi Dai templi E non mi sono fatto nulla Sono caduto dal campo E mi sono ammazzato No, da qua no Torno indietro No Però mi seguiranno Quindi No oh Perchè prima lo miri, poi no, poi lo scattisci? Io ho tre proiettili in questo momento, però. Via, mi vedete più. Non di nuovo, è vero. Allora, Shamasar. Shamas. La regione. Allora, dov'era già? Allora. Sì, è bellissimo. Perfetto. Allora, vorrei scendere. Allora, vorrei scendere. Allora, qui ogni volta mi dice chi ha detecuto, ma io non la vedo mai. Ah, ok. Non l'avevo vista proprio. Allora, andiamo a Nord-Ovest, quindi da qui. Se non ho munizioni, sarà un bel casino. Devo ritornare là, perchè tanto ormai non ci sono più nemici. Ah, ce ne sono due, cazzo. Allora, come vi Hawker? Allora, io ho detto che la visione. Allora, a chi ha detecuto. se tu lo sai sono salito troppo ok però il bello di questi giochi era anche il 99 soprattutto oddio cosa sta succedendo la giuna del carretto e però io non ho colpi di pistola sono rettico non è un problema allora quando quindi non posso neanche testarlo e come faccio a fare così come davvero non ho la possibilità di pestare a mano però devo mirare ogni volta è impossibile è improbabilissimo è proprio allora al contrario di crash facendo un esempio banale di cosa cosa è crash appunto ha avuto un remake particolare nel senso un remake che ha eliminato la legnosità di in alcuni livelli di alcuni personaggi quant'altro qua invece la legnosità è la stessa di diverse generazioni fa della generazione 99 appunto la legnosità è la cosa fa un po non dico ridere c'è pardon me buddy cringiare hai visto Ailat? lui proprio là lì Ulukai ah perfetto proprio lassù sono a posto ok è proprio lassù non lo vedo non lo vedo non lo vedo ma donna che successe là? pardon me buddy hello there hello Ulukai are you ready to rough up some soldiers? I want to fight soon aren't you supposed to believe in peace? yes I do I want a piece of the soldiers I am a guardian but I am working as a recounter to get closer to Croax and Ferran ah very clever yes it was mostly my idea so cream helped a little do you know where some dynamite is hidden? do I? you have no idea how much I put my essence at risk hiding that dynamite the soldiers were shooting at me but I was in disguise I don't have time for the play by play buddy where is it? oh it is near the sunken boat this boat used to patrol the waters of the temple fae until one brave talon sank it let me guess you right? no it was another but I would have helped if I could have so tell me more about the job you're doing of counting risks I am on a very secret mission from Sucran I have to help monitor the risk flow to Croax soldiers there are many dangers involved yeah like adding and subtracting no much more dangerous than that is the knowledge that at any time we could be caught and reverted but I am used to such dangers you are? yes I helped a group of talons set fire to some wreath in a storehouse on the moon we learned that you were coming you did? yes but no one knows not even my partner I am very proud of this moon we weaken the soldiers if only for a moon but I am sure that they are scared of me now oh I'll bet no no that's wrong I think Firs have you seen Eilard? you want to go south to find him I mostly see him from here but last was south Quindi non era lui, lui era uno dei contadini da cui trovare la dinamite. Se era a sud. Oddio, mi impazzirò. Lui? Può essere. Vediamo un attimino. No, Cosirel. Non mi interessa. Cosirel, vediamo un attimino. Chiederò a te adesso. Rispondimi bene. Trova Talan. Posso vedere tu per un secondo? Posso vedere tu per... Hai visto I-Lot? Quello è lui, proprio là. Quello è lui proprio là. Grazie. Ah, finalmente, porca miseria. Sei I-Lot? Sì, è io. Scusate anche di Narn? Sì, sai dove è? Come lo dico ai soldati. Non lo ho visto in molti mone. Ora devo lavorare. Io davvero bisogno di trovare il tuo fratello. Non voglio nulla di più che il suo sicuro ritorno. Ma ho scoperto che se non finirò il mio campo in tempo, sarò più in più, molto presto. Se solo il Shamas potrebbe venire e curare me, potrei finire il mio campo con nessun problema. Ok, torniamo dallo Shamas. Se io lo diciamo. E lì, dopo tutto, non è neanche un po' distante. Oh, no, sono tornati. Io non ho abbastanza munizioni in questo momento, se sbaglio. Ne ho tre. Perché mi fai questo gioco? Sto chiedendo di andare dritto. Perfetto. Allora, sì. Ok. Ed era lì. Allora, dobbiamo parlargli appunto di Ayloth. Guarisce Ayloth, ecco. I need your help. Can you heal Ayloth for me? Again, the soldiers of Croax beat him. Looks that way. They constantly look for Narn. Every worker not in the risk field means they lose their quota for risk for the soldiers. When that happens, the soldiers become weaker. But let us not delay. Weaker, huh? Hmm. Ok. Ah, ti devo accompagnare, quindi? Devo trovare assolutamente delle munizioni. Così non posso andare avanti. Allora, a parte dei videogiochi dove devi accompagnare un tizio che corre più lentamente di te ogni volta. Sono sempre uno strazzo, però lo facciamo volentieri. Ah, qui ho creato una reputazione buona con tutti loro. Perché li ho salvati prima da quei bastardi che si dovevano vivere al punto. E da cui non dobbiamo farci beccare in questo momento, ma sembra che abbiano un radar, non è possibile che mi vedano così tanto. Oddio, meglio dell'intelligenza artificiale dei vecchi assassini scritti che non ti riconoscevano neanche da lontano, però... No, cosa stai facendo? Ah, ok, sì, in effetti. Però io ho un problema. Ho tre cose. Ecco, adesso ho un po' un problema. Ti devo prendere a pestare. Con che suoni? Allora, spero davvero di... Metal, niente. E quindi... Perfetto, siamo nella cacca. Ok. Adesso non guarisce. Ti faccio dire dove è Narn. Oh, l'ho curato, perfetto. Ti senti meglio? Oddio, che lavoro di telecamera. Non vedo nulla. Oh, sì. Grazie mille, Udo-Kai. Potrei finire il mio campo in tempo. Potremmo anche aiutare un altro talento con il suo. Grazie di ascoltarlo. Ora, per il tuo fratello. Due luni fa, Narn's best friend, Lam, era morto. Era un' stato un' stato difficile. Non può farlo. Pro-Ax il avuto il suo campo. E cioè ha ilo per l'ombre. For being sick? Non, per non farlo. Il nostro campo è vero. Ci soldi deve aspettare il rischio che agendoglili per loro. L'ombre era pentru essere un po' forti. L'ombre solo ille di un suo moon. Ho ancora l'ombre. Beh no, Pro-Ax il suo perder. E Narn? Si. L'ombre chodzi. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. and it having something to do with the Essence Idols but I know nothing about these stories Who would? Narn spoke of talking with Shema's mazem at the Temple Elui You should maybe try there It is north of the Temple Fae Thanks What is an Essence Idol, by the way? I do not know, Ulukai but the two wrist counters near the waters of the Temple Fae can tell you more about them, I think I hear them talk of them sometimes Alright, that'll have to do Oh yes, Ulukai You may want to bring a Magua with you when you visit him I hear the Shema's is very tired from healing talent this moon Notepad, accessed Quindi devo andare lì Ma dove faccio è? Il Il Tempio sarà Se è a nord del Tempio Fae Che questo qua, che abbiamo alla nostra destra in questo momento, sarà lì Però è pieno di gente Ragazzi, è impossibile Per cui, cosa faccio? Devo Trovare davvero qualcosa Ok Che erano quelli che mancavano prima Ok Io qui Sono un po' indeciso sul da farsi Mettiamola così Perché Trovare il Mon Allora, nel Rantar era il... Però va bene, non importa Parlare con Shama Zeb l'abbiamo fatto Trovare il Mon, no Dobbiamo... Che è uno degli artefatti che mi servono per continuare Lavoratore al Tempio desidera che gli Yod provi un incidente con dell'alienamite Che... Ok Trovare e fermare Narn Ecco il frattore di Narn I contatori del Riss Sano degli... Dell'essenza Procurare il Magua Per aiutare Shama Smazun Eh Quindi dobbiamo fare un botto di roba Iniziamo nella missione secondaria che era dall'altra parte Del laboratore al Tempio desidera che gli Yod provi un incidente Un incidente, sì Un incidente con... Con della dinamite Però era da tutta altra parte Cioè noi eravamo qui Noi siamo qui Era proprio nell'altra zona Altro Tempio Però A questo punto io andrei avanti Con la missione principale Però Trovare e fermare Narn I contatori di Riss Sanno degli idoli dell'essenza Quindi cercare gli idoli dell'essenza Il Magua E chi sono i contatori di Riss Cioè chi è questo contadino Allora Il Magua Sanno qualcosa su Magua? È molto raro Solo i soldati sono allowed to have them But Logar Has been known to take what the soldiers have For a price E dove lo trovo Logar? Allora Allora Iniziamo dal contatore di Riss No dove posso trovare un Riss Counter? Sì Mar è il leader di Samasar E il leader di Riss Counter Ma ci sono due altri Che sono al sud-est Del Tempio Fai Near l'acqua Penso che questi due Actano strano Ok Ok Mi so che dovevamo Dovevo trovare Prima di tutto Logar No non mi interessa Allora Dove 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 Logar Se lui ha quella roba Noi ci serve Quindi Logar Nord-est Ok Ma a nord-est Non c'è Roba brutta Sì C'è tipo il tempio Il tempio Del fuoco Allora Che lo t'è Magari tu lo sai di nuovo Qua è così Bisogna Cercare di Cercare per tentone Sì Degli investigatori Degli avventurieri Degli avventurieri Il fuoco In questa direzione In questa direzione Hmm Ancora a nord-est Da qui Però Ci stiamo Vicino di una zona Parecchio brutta Scusate 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 Usi As-H1 Ammo Locati Dice che ha trovato Delle munizioni Sì Io Ogni volta Ah che bella Le munizioni Le munizioni Le munizioni Però non le trovo Forse sono un po' più in là Cioè Lo scan è molto ampio Le ha ritrovate Le ha ritrovate Quindi Ah ecco No Questi sono minerali Che rischio Lì C'è di tutto Di più Allora Dovrei Allora Dovrei Pieno di portali Pieno di portali Tra l'altro C'è nessun alleato Qua No Sono tutti dei pezzi di merda Qua perfetto Sì Che però stanno facendo i cacchi loro Va bene Trovassi un contadino qui In qualsiasi cosa in realtà No 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 E' punto Via Qua non c'è nessuno Così Ok Gente Eh ah Tra l'altro siamo vicini al tempio di prima Quello che dobbiamo fare In cui dobbiamo far saltare in aree delle macerie Vediamo questo tizio E lui mi sa qualcosa Logar Dov'è? Dov'è? Can I see you for a second? Where can I find Logar? I saw him north west of here a short time ago Walk many steps in that direction In that direction Ok Nord ovest Da qui è un po' più fattibile Mi sa andare Nord ovest Però Sempre un rispetto Eh sì Prendato Siamo senza energia Siamo Incasinatissimi Allora Salvi Salvi Dovevo salvare No Salvare qua Un casino Sì 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 Però davvero lui è immerso Tra i soldati C'è È grave sta cosa Tu mi sa che faccio Sì 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 Ele Sì 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 Riz ha scelto Riz Solar Second Contact e domani, previsto la stessa ora, dalle 11.30. Come avete visto è molto vasto, ma soprattutto è molto libero, nel senso non ci sono indicatori, non c'è nulla che ci limita nella nostra esplorazione, ma soprattutto che ci aiuta nella nostra esplorazione. Ha mantenuto questa peculiarità ed è una peculiarità che io apprezzai nel titolo originario e apprezzo adesso. Speravo in qualcosa di meno legnoso a livello di gameplay, ma per tutto il resto ci può stare. Perfetto, detto questo, io vi saluto, ci vediamo domani di nuovo qui su Save the Gamer. Ciao a tutti! Ciao a tutti!